In questo video parliamo di operator precedence, come potete vedere dal nostro H1 in questa pagina. Quindi che cosa dobbiamo parlare? Praticamente in JavaScript abbiamo un certo ordine in cui vengono eseguite le nostre operazioni, di cui abbiamo parlato un po' nei video precedenti. Quindi cominciamo subito con qualche esempio pratico. Intanto cominciamo con un var quest'anno. Quindi siamo nel 2019. Ok, poi abbiamo anche un var. Nascita di Marco. E abbiamo un 96, non lo so, 1996. Ok, perfetto. Mettiamo anche un var maggiorenne. E la maggiorità è 18 anni. Quindi mettiamo un bel 18. Ok, adesso dobbiamo andare a vedere se in effetti Marco è maggiorenne nel 2019. Quindi come facciamo? Creiamo un nuovo var. Quindi var. Facciamo un E maggiorenne. Manca l'accento, però va bene lo stesso. Quindi come facciamo a vedere? Dobbiamo vedere quindi un quest'anno, quindi il 2019, meno la nascita di Marco. Quindi questo è per vedere un po' quanti anni ha Marco. E poi dobbiamo andare a vedere se quest'età è maggiore del maggiorenne. Ok? Quindi cerchiamo un po' di fare tutta questa operazione in una sola linea. E non andando a scrivere prima questa in una linea e poi il risultato di questa la confrontiamo con maggiorenne. No, andiamo a vedere tutto in una sola linea e vediamo se in effetti funziona. Quindi qual è il problema? Potrebbe essere che JavaScript, al posto di andare a eseguire prima questa operazione, quindi 2019, meno 1996, magari va a eseguire prima questa. Quindi va a vedere se la nascita di Marco, quindi 1996, è maggiore di 18. Quindi c'è una precedenza. Vediamo intanto se funziona. Quindi vediamo se otteniamo il risultato sperato. Quindi vediamo un var. No, scusate. Andiamo a stampare con un console log. E andiamo a vedere che cosa ne appare. Perché se noi vediamo che questa operazione viene fatta prima, quindi abbiamo un 2019, meno 1996, e poi in effetti andiamo a vedere se è maggiore di 18, ci darà un boolean. Quindi ci darà true o false. Quindi se è vero o no questa cosa. Però se andasse a eseguire prima questo, quindi 1996 è maggiore di 18, ovviamente è vero, quindi ci darebbe un true. Però poi abbiamo un'operazione matematica, abbiamo un 2019, meno true, che non vuol dire niente ovviamente. Andiamo a vedere. Salviamo. E vediamo che ci dà come risultato proprio vero. Perché? Perché in effetti questa operazione viene svolta proprio nell'ordine in cui volevamo noi. Quindi prima viene svolta questa sottrazione e poi il risultato viene confrontato con maggiore n. Quindi se noi andiamo a vedere un po', possiamo scrivere magari, ok, già l'avevo cercato, quindi operator precedence, e cerchiamo dal sito di MDN. Ok, possiamo vedere. Non è forse questo il sito. Vediamo di nuovo. Operator precedence, vediamo con JS. Ok, ci spunta questo sito di MDN. E questo? Sì, ok. Abbiamo trovato quello giusto. Quindi vediamo che, secondo questa tabella, quindi l'ordine va dal più alto, quindi il 20, quindi quello che ha precedenza su tutti, al più basso, che è 1. E vediamo qua che abbiamo diversi, quindi diverse operazioni. Possiamo vedere quella che ha precedenza su di tutti, quindi quella del numero 20, è proprio questa operazione che viene eseguita dentro le parentesi tonde. Quindi, come abbiamo anche studiato a scuola, quelle dentro le parentesi tonde vengono eseguite proprio per prima. Poi abbiamo ovviamente altri operatori, quindi magari possiamo avere anche qua sotto quelle più comuni, quindi le moltiplicazioni, divisioni, quelle reminder, che era il modulo che abbiamo visto precedentemente. E vediamo che hanno, ad esempio, una precedenza di 14. Poi ci sono quelli che hanno magari una precedenza minore, poi abbiamo anche il segno, quindi minore, minore uguale, maggiore, eccetera, eccetera, hanno una precedenza di 11. E poi ci sono anche altri operatori, quindi che andremo anche a vedere più tardi. E poi l'ultimo è la virgola, praticamente. Ok, però comunque, che cos'era che volevo farvi notare? Come vediamo, il segno minore che possiamo vedere qua, a livello quindi 14, no, scusate qua, l'ho perso, il minore è... No, ok, qua, sottrazione, a livello 13, quindi un punto più basso, infatti è più basso ovviamente della moltiplicazione e divisione, quindi la sottrazione è a livello 13. Però, qua, che avevamo il segno maggiore, vediamo che il segno maggiore che si trova qua sotto, è a livello 11, quindi ha una precedenza minore. Quindi, infatti, la sottrazione verrà eseguita prima del segno maggiore o minore o uguale, eccetera, eccetera. Ok? Quindi questo è quello di cui volevo parlare all'inizio, quindi è la precedenza degli operatori. Adesso andiamo a vedere un altro esempio. Quindi, se noi vogliamo fare una media, magari, andiamo a mettere anche un'età, quindi abbiamo detto che età di Marco var età Marco è uguale a questo qua, quindi quest'anno meno nascita Marco, giusto? Quindi abbiamo 2019 meno 1996. Ok. Poi andiamo a creare un var età Billy, quindi introduciamo anche Billy, ma gli diamo un numero direttamente, quindi Billy facciamo che ha 28 anni. Ok. Adesso vediamo, magari, una media, quindi fra l'età di Billy e l'età di Marco. Ok? Quindi abbiamo, magari, var età media, che è uguale, ovviamente, a età Marco, o età Billy, lo stesso. Quindi età Billy più età Marco, e poi, ovviamente, dobbiamo dividerli per due per avere la media. Ok, perfetto. Come abbiamo visto qua, però, noi vogliamo che intanto viene prima eseguita l'addizione e poi la divisione, ovviamente, perché normalmente verrebbe eseguita prima la divisione, no? Perché la divisione, come possiamo vedere, è nel livello di 14, quindi è un gradino più in alto dell'addizione. quindi verrebbe eseguita per prima. Come andiamo, quindi, a risolvere questo problema? Come facciamo a svolgere prima l'addizione? E attendo, quindi, delle parentesi tonde. Quindi, le parentesi tonde, come possiamo vedere, che sono a livello di 20, quindi qua, operator type, grouping, e vediamo, infatti, che è a livello prima di tutti, quindi questo verrà svolto prima di tutti. Ok, andiamo a vedere, in effetti, se questo risultato va bene, quindi se abbiamo, in effetti, la media. Quindi andiamo a stampare questa età media. Salviamo, torniamo qua, nella nostra pagina, e vediamo che l'età media, quindi fra loro due, è 25.5. Ok, mi sembra giusto. Quindi, questo è come raggruppare gli elementi. Quindi, possiamo andare a mettere, magari, qualche commento qua, per capire meglio. Quindi, questo si chiama grouping. e qua sopra, gli mettiamo, magari, un, multiple operator. Quindi, operazioni multiple, allo stesso momento. Ok, questo è il grouping. Perfetto. Adesso, volevo parlare, pure, di altri argomenti. Questo di cui volevo parlare, si chiama multiple assignment. Ok, assignment. Credo sia scritto giusto, in caso, scusatemi. ok, quindi, andiamo a vedere un po' di che cosa parliamo qua. Intanto, voglio dichiarare delle variabili, quindi, x e y, e le dichiaro insieme, però, noi do un valore per ora, ok? Quindi, le lasciamo così. Adesso, andiamo a fare un'operazione, quindi, abbiamo una x, che è uguale a qualche cosa. Quindi, andiamo a fare magari un'operazione, abbiamo 2, più, più, più 7, magari. poi lo moltiplichiamo per qualcosa, moltiplichiamo magari per 3, e poi sottraiamo un 5. Ok, perfetto. Come andremo a risolvere, quindi, questa operazione? Pensateci un attimo, la risposta, ovviamente, è molto semplice, quindi andiamo un po' a commentare quella risposta. intanto abbiamo quella che ha precedenza su tutti, che è l'operazione, quindi dentro la parentesi tonda, quindi 2, più 7, ovviamente uguale a 9, e poi avremo la moltiplicazione, quindi 9 per 3, 27, quindi avremo 9 per 3, 9 per 3, meno 5, quindi questo è il primo passo. Poi avremo 9 per 3, quindi uguale a 27, quindi 27, meno 5, e poi infine abbiamo 27, meno 5, che è uguale a 22. Ok, molto semplice, vediamo come funziona, cioè, vediamo se in effetti il risultato è giusto, console.log, abbiamo la x, ok, il risultato è 22, siamo molto bravi a fare i calcoli, ovviamente, ok, quindi, possiamo passare adesso a questo argomento di cui volevo parlare, quindi questo multiple assignment. Noi praticamente in javascript possiamo assegnare diversi valori a delle variabili, quindi ad esempio, io qua avevo già dichiarato x e y, la x già è uguale a qualche cosa, però io posso mettere ad esempio x è uguale a y, che è uguale a tutta questa operazione. Ok, quindi, che cos'è che è il concetto qua? Praticamente, se noi andiamo a vedere, ehm, qua anche le precedenze, ci fa notare che nel segno uguale, vediamo se lo trovo, da qualche parte, eh, il segno uguale, dovrebbe essere, ah, ok, questo assignment, ok, che è il segno uguale, e vediamo che va, dice, da destra a sinistra, quindi, noi di solito, le nostre operazioni sono da sinistra a destra, no? Vanno, quindi iniziano da qua, e vanno fino a qua sotto, però con questo segno uguale, che è pure un'operazione, non scordiamolo, quindi è come una moltiplicazione, una divisione, eccetera, eccetera, e il suo ordine quindi va da destra a sinistra, infatti, se noi dovessimo andare anche a stampare la y, vediamo che il risultato, vediamo, ops, sbagliato, ok, vediamo che il risultato, ci danno 2,22, noi possiamo stampare, eh, due elementi, quindi nello stesso momento, basta mettere una virgola, e ci danno 2,22, quindi è riuscito, quindi x è uguale a y, quindi tutte e due sono uguali a 22, però, in una normale operazione, noi dovremmo avere in teoria, che la x, è uguale a indefinito, perché, se noi andiamo da sinistra a destra, eh, la y è ancora indefinita, e poi viene tutta questa operazione, però in teoria saremmo indefinita, se noi andassimo da sinistra a destra, però come vediamo, eh, per l'assignment, quindi il segno uguale, le nostre operazioni vanno da destra a sinistra, quindi prima viene svolto tutto sto coso qua, ok, anzi, fino a qua quelli sono con 20, e poi una volta che abbiamo quindi il risultato, che era 22, mi pare, vediamo che 22 è uguale a y, e poi y che è 22 pure, è uguale a x, e quindi infatti qua abbiamo il risultato 22 e 22, quindi volevo un po' adesso farvi vedere infatti questa cosa, quindi questa associativity, che ci fa vedere proprio in che ordine vengono svolte le operazioni, quindi alcune da sinistra a destra come siamo abituati, e altre da destra a sinistra, ok, quindi per questo video è tutto che già è un po' lungo, e ci vediamo nel prossimo per le altre operazioni. Grazie a tutti.